Quello che mi farebbe piacere oggi condividere con voi è farvi comprendere come l'economia del mondo, che ormai è diventata la finanza, cioè un parassita, che si mangia l'economia reale, questo stesso pensiero è quello che abita al nostro interno, è identico. Sapete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non sta facendo previsioni ottimistiche sul futuro della psiche umana, si sostiene che negli anni 50 una persona su quattro sarà psichiatrica, queste sono le proiezioni, non sono molto incoraggianti e credo che siano realistiche perché se non cambiamo tipo di pensiero quello che oggi è il nichilismo imperante, cioè il nichilismo vuol dire non credere più niente, non avere scopo, la vita non ha significato, non c'è senso, quindi l'unica cosa che rimane da fare è il codimento immediato, perché dovrei rinviarlo, non c'è nessun senso, questo è l'eredità che abbiamo consegnato a un gran numero di giovani oggi, quindi il karma che abbiamo accumulato è tremendo, ma il karma non ci deve spaventare, perché il karma è come il debito pubblico, ci hanno insegnato, ci insegnano tutti i giorni che per togliere il debito pubblico bisogna pagare più tasse, quindi bisogna togliere risorse ai cittadini, perché? perché sono stati cattivi, debito vuol dire colpa in tedesco, siamo in colpa, siamo stati spendacioni, ora visto così il debito ci porta regolarmente a un solo posto, al default, perché? aumentando le tasse si riducono i soldi in circolazione, il potere d'acquisto, riducendo il potere d'acquisto si riduce la domanda interna, se si riduce la domanda interna le imprese possono vendere di meno, se vendono di meno, hanno meno entrate, non hanno i mezzi per pagare le persone, le devono licenziare, siccome le devono licenziare lo Stato deve intervenire con gli ammortizzatori sociali, quindi deve imporre più tasse, ma imponendo più tasse impoverisce i cittadini, impoverendo i cittadini spendono di meno, spendendo di meno le imprese vendono di meno, vendendo di meno non possono investire in produttività, quindi non gli rimane altro che tagliare le spese, licenziano altre persone, siccome licenziano altre persone lo Stato deve intervenire con gli ammortizzatori sociali, quindi tolgo le tasse e il debito continua a crescere, il malato sta morendo perché gli abbiamo dato questa medicina, allora gliene diamo ancora di più, ancora di più, finché finalmente muore. Ecco, e questo è quello che abbiamo vissuto noi in Italia. la medicina della austerity è questa ed è incredibile che persone che si dichiarano economisti facciano errori così. Com'è possibile che questi errori vengano fatti richiede un capitolo a sé sulla specie umana, come possa produrre simili errori, in buona fede, soprattutto quello è interessante, come si possono produrre errori così in buona fede, perché c'è chi lo fa in buona fede. Ecco lì, è il karma ideologico che lo fa comprendere, noi creiamo idee tossiche, queste idee tossiche diventano sempre più tossiche finché alla fine ci ammaliamo. Questo accenno è per farci capire che qua dentro non stiamo parlando di bolle di sapone, stiamo parlando di ciò che c'è più reale, l'economia è qualcosa di reale, perché è quella cosa per cui alla fine del mese sappiamo che il mese dopo mangeremo ancora oppure no. Quindi quanto di più reale c'è? Ora vi farò vedere che quanto di più reale c'è, il pensiero che regge quella roba lì è lo stesso con cui reggiamo le nostre economie anteriori. È identico.